Il gruppo Credito Valtellinese entra nel futuro con l'inaugurazione della nuova filiale Banca Aperta di Piazza Garibaldi a Sondrio. Un'innovazione unica nel campo, un vero e proprio passo pionieristico a livello nazionale che ridefinisce il concetto stesso di banca, reso possibile dal dispositivo Microsoft Surface e dalle soluzioni di comunicazione Skype for Business. Grazie all'ausilio delle tecnologie più all'avanguardia, infatti, gli utenti potranno relazionarsi in maniera diretta e sicura con l'Istituto e vedranno moltiplicarsi l'offerta dei servizi a loro dedicati. Un'evoluzione nel senso dell'innovazione e della semplificazione che renderà Creval ancora più vicino all'utenza, come sottolinea il direttore generale Mauro Selvetti. Questa è una filiale che può funzionare in assenza totale di persone perché è completamente informatizzata, può funzionare potenzialmente 7 giorni su 7, 24 ore su 24 e in questa filiale i clienti possono, indifferentemente fare o tutte le operazioni di banca o avere consulenza da persone qualificate. La cosa che ci sorprende maggiormente di questo primo mese di sperimentazione è che gli utenti più appassionati sono gli utenti più anziani, più avanti con l'età e questo a dimostrazione del fatto che oggi la tecnologia è davvero la portata di tutti. Un risultato straordinario raggiunto grazie alla collaborazione con un partner d'eccellenza come Microsoft Italia. Il nostro supporto è stato ovviamente nel collaborare con Creval e col cliente, nel identificare quale tecnologia era idonea per la realizzazione di un'idea assolutamente vincente, cioè portare nel territorio una realtà di uno sportello bancario sempre aperto, con la massima qualità dei consulenti e con una vicinanza ai consumatori data proprio dalla tecnologia. I vantaggi del rivoluzionario approccio garantito dalla nuova filiale sono molteplici. La tecnologia ci ha consentito di ampliare e migliorare quelli che sono i livelli di servizio di una filiale tradizionale. Innanzitutto perché in una filiale tradizionale di piccole dimensioni spesso è difficile, se non impossibile, avere tutti i tipi di competenze a livello di risorse della banca per risolvere in tempo reale qualunque tipo di richiesta del cliente. Il servizio al cliente dentro la filiale è nettamente migliorato.